Vai 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 che la completiamo Vai Vai che la completiamo Gente che mi supera con la T20 nell'ospirale Come cacchio fate? Ciao ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ragazzi siamo Nell'undicesimo episodio delle gare stante E oggi con noi c'è Ciao a tutti ragazzi qui è Dexta Ecco ragazzi Inaspettatamente c'è Dexta Che ha accettato di collaborare con me Per fare due garozze insieme E quindi facciamo il bordello adesso Vai vai Anche se siamo senza collisioni quindi Il bordello è relativo però È un bordello un po' Simple No non ci credo Già fuori? Sei già fuori? No vai sono rimasti in strada Perfetto Ecco io sai C'ho un problema che è tipo Ma che cavolo si va? C'è un super loop qua Eh io sto senza mappa Come senza mappa? Eh sì perché Avevo fatto gli screen per i video Dell'altro giorno E sto senza mappa Minchia Dai però è più competitivo avanti Eh infatti senza mappa è più competitivo Il problema è che non so i checkpoint Li devo guardare tipo così a vista Qua è veramente complicato Perché c'è un super loop Continuo Non lo so Infatti è vero Eh ma io non sto entrato nel tubo giallo però Dai Io sto riprovando a fare qua Io sto nella parte grigia Dove sta il Il turbo Fail Fail estremo Di Alex Ok Esplode No non ci credo Gli ostacoli No ma non è possibile Che un minimo tocco esplode la macchina Madonna santa E sto sempre a fare lo stesso punto Tipo vado nel tubo giallo Esplodo appena tocca il tubo Che lo tocca tipo Fa il testa a coda Niente ti stanno trollando Alex Minchia di brutto Care troll qua No non ci credo No C'è una parte assurda Praticamente ci sono tutti i cerchi Tipo aperti C'è tutto il turbo Cioè lo devi vedere Lo devi vedere E io tipo Sto Ce l'ho fatta adesso Vado troppo le Sì vabbè No sto sclerando male io E la brutto qua che fai testa a coda A non finire c'è Sembra che c'ho l'olio dentro Dai Un checkpoint che ogni tanto Ho mancato un checkpoint No vabbè ma questa gara non è normale Pure tu il fatto del checkpoint Ho mancato un checkpoint dentro il tubo Ma non è normale Eh vabbè io sto Io tipo sto scivolando Senza usare le ruote Tipo va Non sto volando nel tubo Ok ce l'abbiamo fatta Perfetto Non so chi è primo Non so nulla Non so che posizione sono Non so niente Perché tipo non ho la mappa Non ho interazione Non c'ho nulla Niente In che gara è senza mappa Le challenge Stiamo facendo qua Perfetto Eh lo potevo mettere pure io Vabbè arriviamo ultimi Se mettiamo tutte e due Senza mappa Eh ma ho visto che c'è un punto Dove tipo mancano dei pezzi del tubo E tu devi pure Sì sì io là sono caduto Eh ecco Sto dietro di te Eccoti Niente Niente qua ho mancato il checkpoint Tiro due Troll Ok Raga per questa gara Voglio un casino di like Deg devi dire tu Quanti like Dobbiamo arrivare in questa gara Proprio perché sei tu Eh non lo so Di solito quanti te ne lasciano Eh vabbè I duecento li riesco a superare Quindi Superiamo i duecento like Perfetto Vabbè dai Cerchiamo di raggiungere Almeno i cinquecento Barra mille like È la madonna Ecco Però il problema Se non prendi il checkpoint Non li raggiungiamo i like Perché già non ho la mappa Quindi È un casino Devo andare a casa Vabbè mettila Io non riesco a prendere il checkpoint No vabbè Assurdo Assolutamente Non concluderò In questa gara Degsta non conclude Sicuro Ecco Il problema Dai E prendilo Sto cavolo L'ho preso Boo Io ci sono passato da sopra Siccome non so se lo prendo Perché Non me l'ha preso Ma è veramente Malato Io finalmente ci sono Ce l'ho fatta È malato Non mi prende il checkpoint Ci sono passato sopra Dai Troll Poi qua è fatto malissimo Che tipo Allora Io devo mettermi la mappa Ragazzi Scusatemi Ok ho messo la mappa Che bello Quattordicesimo posto Il miglior posto Che esiste in questo mondo Io sto ancora bloccato all'inizio Perché Mi sa che non la concludo Raga Qua non riesco a prendere Sto checkpoint Bisogna girarsi Con i tubi gialli sotto Un bordello Mamma Comunque più complicato di così Così non poteva essere Madonna infatti Basta Tra poco parte il tempo Fra pochissimo Spiro che parte il tempo Perché mi sono rotto le scatole Dai Sono nelle parti tutte aperte Anzi Ho recuperato leggermente Mi manca solo il traguardo E io non riesco a prendere Ti giuro Il checkpoint Niente proprio Mamma mia Secondi Dai che concludo Guarda Ora lo devo prendere Ora che è finita la gara Dai Decima posizione Ho preso No non riesco a concludere Raga Mi dispiace E niente A questo punto Allora dislike Ecco per Alex Che non concludo Come Vai Niente Non concludo Cioè io faccio una gara con te Non la devo concludere Proprio è Così che deve andare Ma comunque Ci rifacciamo nella seconda gara Adesso Speriamo Vai Mi cambio pure macchina Perché sennò Ragazzi Seconda gara Speriamo adesso Di avere un po' di fortuna Perché prima era stranissima Come gara Speriamo che questa Sia un po' più Normale Diciamo Allora Speriamo di andare bene Qui Vai Si parte Si parte Vai Let's go Let's go Ho cambiato macchina Quella pruto là Che non ha proprio stabilità Mamma mia Questa volta ce l'hai la mappa Sì ce l'ho L'ho messa prima Perché veramente Era una cosa assurda Cioè manco se stavamo facendo Le challenge Tipo Gare senza mappa Così Mamma mia Ecco Proprio per quello Dobbiamo fare un sacco di like Perché non ho usato la mappa Prima Allora C'è una cosa Minchia c'è una spirale bellissima Bellissima Sì sì Perfetto Sta laggando come al solito Vito la gente che si tede trasporta Vabbè solito Il macello Tutti che si schiantano sulle roulotte Sui camper Tu stai con la zentorno gialla La zentorno dell'epoca Dai dai In seconda posizione No terzo Ci sono quelli che laggano Quindi Sì non si capisce Che poi qua hanno cambiato Il fatto dei checkpoint Ho visto Tipo mo La posizione in base Alla vicinanza Ho visto Sì 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 Allora io sono in quella Mega spirale Io pure Io sto dietro di te Proprio dietro di te Vai 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 che la completiamo Vai Vai che la completiamo Gente che mi supera Con la T20 Nello spirale Come cacchio fate Tu vedi che Mi superano da dentro Ti passano da dentro Ok dai ci sono Qua si rallenta di brutto Ma è bellissimo Super salto tra poco Ecco Questa gara è molto figa Si vola vai Pure io Quinta posizione No forse Vai vai ci arrivo Per poco ci sono arrivato qua Mamma mia Veramente per poco Ti viene l'ansia poi Qua c'è il mercato Cioè hanno messo pure i cosi del mercato Nelle gare stante La frutta Perfetto dai Io sto nel tubo blu E sta andando tutto bene Io anche per il momento Se la Tyrus Se ne va a cazzi su Mi incazzo Ho fatto un super giro Epico Dai Ok sto di nuovo sulla strada Perfetto Ah ora c'è la super velocità qui Cioè questo pezzo è bellissimo C'è un rettilineo Che ti permette di superare tutto Ho superato Quarta posizione Tu dove sei? Dove sei? Io sono in seconda Per ora Ecco Qua c'è Lo slalom Con le rampe Ok perfetto raga Ti è suicidato Ti è suicidato Come fanno a suicidarsi? Vai secondo giro Pure io Stta gara dura molto poco Terzo posto Terzo posto No Ha sbattuto contro un tronco Tronchi maledetti Hashtag Qua sono nascoste poi le cose Ne c'è spuglie Ci sono i pali Ci sono i pali Tutto è trollose Stta gara Già iniziamo no? La gara è stanta Troll Per ora sono sesto Ah io sono qua Ti ho superato allora Vabbè Io devo rifare lo spirale qui Ho superato la gente in volo Incredibile Dai raga Spirale Tutto un colpo come prima C'è camorra C'è uno che è crashato Mi superano di nuovo Nello spirale Ma come cacca fate? Cioè È come se fosse Come se ci fosse la scia No? Nelle gare Cioè Senza collisioni Guardo Ecco ti ho visto Stai quasi intorno Lì Sì Guarda Raggiungi 500 all'ora Su sta cosa Secondo me Se metti la prima persona Vedi il contachilometri Che ti posta Al massimo Comunque Sì Di nuovo Tubi blu Speriamo di non scivolare Ora Prima non è successo niente Qui E poi qua Per fare bene i tubi Bisogna andare sempre Tipo Nella logica Laterale Sì Adesso ti sto superando Si bastardo Sì Perfetto Guarda Guarda il super giro Vai Pura ti risupero Incredibile Incredibile Ah Peccato Dai Dai però bellissimo No questo appunto È stato veramente bello Sto raggiungendo pure gli altri La Tyrus va a 500 all'ora In questo momento Che poi c'è C'è il segnalino Speed limit 50 Sì certo 50 No Ecco lo sapevo E conclude Quarta posizione Mamma mia Sorpreso E io quinto Minchia Ho urtato al guard rave Finale proprio Porca miseria Minchia Questa gara è stata bella Non strana come quella di prima Perché quella di prima Non si è capito niente Senza mappa Ah Veramente Sì sì Comunque ragazzi Per questo video è tutto Ditemi nei commenti Se vi è piaciuto Possiamo fare altro Eccetera eccetera Lasciate like Commentate Iscrivetevi Chiaramente C'è il canale di Dag In descrizione Anche se siete tutti iscritti Però lo metto lo stesso E niente Dag se vuoi salutare Ciao a tutti È stato bello Partecipare Insomma In questo video Arriviamo a mille like Per Alex Mille like Vediamo un po' Cosa riescono a fare Vi pago io ragazzi Dovete lasciare like Tanti like Ma proprio tanti Per lui Fatelo per lui In qualche modo In qualche modo Alex vi farà arrivare 10 euro l'uno a casa Ecco perfetto Ve li spedisco io Non vi preoccupate E niente ragazzi Per questo video è tutto Ci becchiamo Al prossimo video Bella